buongiorno trova una posizione comoda seduta o sul tappetino o su una sedia inizia in modo molto intuitivo a stirare il corpo come se fossi un gatto che si è appena svegliato stringendo i muscoli di un lato del corpo ad esempio la schiena e poi molto lentamente allentare la tensione per tornare in una posizione neutra continua in questo modo stirandoti in qualsiasi direzione che vuoi e poi lentamente allentando quella tensione che hai creato per tornare al centro del corpo in una posizione neutra non c'è bisogno di di sincronizzare il respiro se desideri farlo lo puoi fare ma comunque cerca di mantenere un respiro profondo e continuo non controllarlo eccessivamente e soprattutto non trattenerlo continua ad allungarti a stirarti in questo modo intuitivamente per ancora un minuto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Per proseguire, inspira profondamente, sollevando le braccia come se fossero ali, espira apri i palmi delle mani verso l'alto, ispira porta le braccia su, ispira intreccia le dita i palmi delle mani verso l'alto, ispira per allungarti il più che puoi, ispira per far scendere le braccia verso terra, ripeti altre quattro volte, ispira solleva le braccia, ispira palmi verso l'alto, ispira braccia sopra la testa, ispira intreccia le dita, palmi delle mani verso l'alto, ispira stenditi allungati più che puoi, ispira le braccia scendono giù verso terra, altre tre volte, ispira braccia su, ispira palmi verso l'alto, ispira braccia su, ispira intreccia le dita, palmi verso l'alto, ispira allungati, ispira le braccia scendono, ripeti le ultime due volte seguendo i tuoi tempi, sincronizzando il respiro con i movimenti del corpo, fai un'ultima ripetizione sempre seguendo il tuo respiro e i tuoi tempi, ora per proseguire incrocia le gambe ci prendiamo un momento qui per approfondire il respiro portandolo giù nell'addome, trova una posizione neutra, dritta con la schiena e inizia a spingere il suolo creando una sorta di dondolio da lato a lato, mantenendo sempre un corpo morbido, rilassato, muovendo il corpo con le ossa tramite lo spingere il suolo piuttosto che stringere i muscoli, piano piano ritorna a questa posizione neutra, ferma, delicatamente inarca la schiena e crea cinque cerchi grandi con il busto verso sinistra, mantenendo un respiro profondo e continuo portandolo giù nell'addome. l'ultimo cerchio, ritrova la posizione neutra al centro, inspira profondamente, solleva le braccia palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente per poi ripetere, inspira palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente, premendo l'addome contro i palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente, ripeti un'ultima volta, inspira solleva le braccia e rimani qui con le braccia sollevate, stenditi da lato a lato, da 5 a 10 volte, spingendo il suolo tramite il bacino e allo stesso tempo allungandoti tramite le braccia. altre due ripetizioni, inspira al centro, espira palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente, premendo l'addome contro le mani. Ripetiamo questa sequenza, inizi a dondolare da lato a lato, spingendo il suolo con il bacino, rilassando il corpo, rilassando la carne, i muscoli, trovando il movimento tramite le ossa e questa pressione che dai verso il basso. piano piano torna in una posizione neutra, inarca la schiena e crea cinque cerchi grandi con il busto verso la destra, portando sempre il respiro giù nell'addome, nel bacino, nelle parti più basse del corpo. aiutandoti tramite il respiro a trovare fluidità e leggerezza nel movimento. l'ultimo cerchio torna al centro alla posizione neutra, inspira e solleva le braccia verso l'alto. espira, palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente, premendo l'addome contro le mani. ripetiamo altre tre volte, inspira e solleva le braccia. espira, palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente. espanditi le parti basse del corpo. espira, palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente. espanditi le parti basse del corpo. inspira, solleva le braccia e rimani qui, stendendoti da lato a lato da cinque a dieci volte, spingendo il suolo con il bacino ed allungandoti tramite le braccia. altre due ripetizioni. inspira al centro. espira, palmi delle mani sull'addome, inspira ed espira profondamente, o lasciando che le mani rimangano qui a riposare sull'addome come prima, o portando le mani al cuore, rimanendo qui in silenzio per qualche istante. ora, se vuoi, puoi spostare le mani al centro del busto, al plesso solare, riposandole qui per un altro po', mantenendo il respiro profondo ed in silenzio nel corpo e nella mente. lascia che le mani scendino per riposare, infine, sull'addome. respira profondamente per tre volte nei tuoi tempi. ed intanto approfitto di questo momento di silenzio per dirti che sei libero per rimanere qui per tutto il tempo che vuoi. io intanto ti ringrazio per la tua presenza e ci rivediamo qui presto. grazie 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 grazie